Ecco, quindi l'axenofobia sono tutti degli strumenti invocati da magari anche illustri colleghi per tentare di abbattere a livello antropologico e disumanizzare un progetto politico. Ma sì, ma perché tu... sì, perché antropologicamente chi è contro l'immigrazione non è razzista. Guarda, che non voglio addoppiare Buonanno quando vai in televisione. Non ce l'ho io nel mio partito gente come Borghezzi o Gentilini. Non ce l'ho io gente come Calderoli. La storia della Lega è una storia largamente di fascisti, di xenofob. Ma dove la Lega è il ministro? C'è il miglior sistema di integrazione. Sono parole che dite voi, non io, non le invento io. La feccia della società sono parole che in un paese normale vai subito dritto in galera. Ma ti rendi conto cosa dite voi quando andate in televisione? C'è gente che in Italia vorrebbe mettere fuori legge e la Lega. No, perché... Gente come Buonanno non la Lega. Non mi mettere in bocca cose che non ho mai detto. Allora fai un esposto, fai un esposto, denuncia... Una frase come quella è inaccettabile, punto. Allora, denuncia Buonanno per istigazione all'odio razziale. Infatti a Piazza Pulita ha preso un botto di applausi, l'abbiamo visto tutti. Ah beh, vantiamocene, vantiamocene. Allora dite domani che tutti i neri devono morire, vi applaudono, complimenti, ok? Allora inseguiamo l'applauso e cavalchiamo il peggio di questo paese. Sei una grande Lussana, sei un genio proprio. Che bisogno... Che bisogno... Che bisogno...